Musica Lunedì 25 gennaio, conversione di San Paolo. È il venticinquesimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 340 al termine. Il sole sorge alle 7.39 e tramonta alle 17.08 minuti. La luna si leva alle 13.50 e tramonta alle 4.58. Notte e tempo, viene strozzato in carcere e il giorno successivo appeso per un piede alle forche in piazzetta un certo Monsignor Vincenzo Moro, reo di spionaggio a favore degli spagnoli. Le previsioni per domani. Tempo stabile e ben soleggiato con aria tesa ed ottima visibilità. Temperature minime senza notevoli variazioni, con valori diffusamente sotto lo zero. Massime in riprese in pianura senza notevoli variazioni sulle zone montane. Venti in quota dai quadranti settentrionali tesi a tratti forti. Possibili episodi di fondo in qualche fondo valle e localmente sulle zone piede montane. Grazie a tutti.